E' cominciata la preparazione dell'Unitas Shaka in vista del prossimo campionato di eccellenza. Al Gurrera, l'organico attualmente a disposizione del tecnico Totò Bruculeri, svolge due sedute quotidiane, con lavoro atletico e tattico. La società, come è risaputo, ha deciso di puntare e di confermare lo zoccolo duro costituito dai giocatori saccensi, integrato da diversi giovani della Juniors. Il reparto offensivo sembra già al completo, con la presenza dei confermati Sant'Angelo Galluzzo Messina e l'aggiunta del nuovo arrivo Fufanà, mentre qualche tassello manca ancora in difesa e a centrocampo. L'organico sarà completato quindi nelle prossime settimane, come confermano ai nostri microfoni il presidente Gioacchino Settecasi e mister Bruculeri. Gioacchino Settecasi si riparte con la preparazione atletica, ovviamente sarà una stagione lunga e complicata. Sì, si riparte, oggi diciamo è il primo giorno che i ragazzi fanno mattina a pomeriggio, sabato e domenica abbiamo fatto tutte le visite mediche e tutto quello che è di preparazione per la giornata e per tutta la preparazione. L'organico è ancora da completare, manca qualche pezzo? Sì, diciamo che siamo partiti con alcuni giocatori, molte conferme e adesso piano piano completeremo la rosa. Quali obiettivi avete sul mercato, che cosa manca? Allora manca concentrare i difesi è una mezzala, ma ripeto non abbiamo fretta, abbiamo la fortuna che ci sono moltissimi giocatori, quindi piano piano capiremo quelli sono i profili che a noi interessano e quelli giusti per la nostra squadra. Mister Bruculeri, si parte con la preparazione atletica, c'è tanto lavoro che vi aspetta? Il lavoro penso che sia la cultura che il gruppo dovrebbe avere già e penso che sinceramente un gruppo l'ha capito, un gruppo di ragazzi importanti che già hanno assimilato bene la cultura del lavoro e questa è la cosa che mi conforta di più. Il resto penso che la città è giusto che si deve aspettare grande cose, però è normale stare vicino a questi ragazzi perché stanno iniziando un progetto diverso, una società che ha un progetto importante anche per il futuro. Quello che posso solo dirti è che la conferma dello toccolo duro insieme a tanti ragazzi di Sciacca, questo dimostra che la società a 360 gradi ha già un progetto ben preciso e da questo avviene una crescita importante e ritengo anche esponenziale anche per i paesi di Mitrofi. Lei ha aggregato anche tanti giovani? Sì, ma i giovani penso che siano da traino, i giovani sono importanti, i giovani hanno bisogno di una crescita. Trovano già ragazzi che hanno una grande esperienza, è giusto non citarne uno per uno perché ormai riconoscete dei minimi dettagli e la crescita deve avvenire da loro. Un'ultima considerazione, l'organico manca ancora qualche pezzo? Sì, stiamo lavorando, penso che il nostro direttore sta scandagliando da destra e sinistra per poter reperire dei profili che a noi interessano e che possono essere importanti per il nostro progetto. Fino a questo momento non ce l'abbiamo ma sono sicuro che arriveranno. Nei prossimi giorni conosceremo meglio anche alcuni giocatori dell'Unitas Shaka, sia i confermati che i nuovi arrivi che faranno parte della Rosa per la stagione 2022-2023.